Catanzaro, la città fondata sul lavoro. E' questo il titolo di un workshop organizzato dalla CGL Catanzaro-Lamezia che si è tenuto questa mattina presso la sala concerti del municipio del capoluogo. Al centro del dibattito, la necessità del rilancio occupazionale attraverso tutta una serie di nuove idee che coinvolgerebbero i settori pubblici, dei servizi, della cultura e del turismo un po' in tutto il mezzogiorno d'Italia ed in Calabria in particolare. Le nostre proposte per la città di Catanzaro che può avere un suo sviluppo anche dal punto di vista dell'occupazione in un rilancio delle politiche pubbliche, dei servizi pubblici locali ma anche nella promozione e nella creazione di nuove iniziative di sviluppo relativamente all'ambito della cultura e del turismo ma anche di reinsediamento industriale. La nostra opzione è quella di ripartire dal lavoro e dalla creazione di occupazione ed è per questo che in queste ore stiamo dicendo al governo che vanno cambiate sia le norme del Jobs Act sia le norme previste nel masterplan che non danno una risposta al mezzogiorno come ci stanno dimostrando i dati. Per produrre lavoro a Catanzaro, così come nel resto della regione, bisogna creare sinergie istituzionali e politiche e favorire gli sbocchi lavorativi e i neolaureati. In questo processo di rinascita, che parte proprio dal lavoro, anche l'amministrazione comunale catanzarese è chiamata in causa perché non c'è ripresa in una città senza occupazione.